Gesù entra in conflitto con i Sadducei, o meglio bisognerebbe dire che i Sadducei entrano in conflitto con Gesù, scendendo in campo in questo scontro ormai aperto tra Gesù e tutte le autorità di Gerusalemme. Gesù ha contro tutti in questo momento. Diciamo che a turno trova dei nuovi avversari che cercano soprattutto di screditarlo davanti alla folla. Il gioco è sempre quello. Ottenere la simpatia della gente, vedere chi vince davanti a un pubblico, che sta lì e si diverte a guardare come in un dibattito televisivo. Sappiamo che Gesù è a Gerusalemme per affermare il suo essere Messia, però essere Messia in un modo speciale. D'altra parte, i suoi nemici vedono che Gesù è circondato di folla, che lo ascolta, che lo adora, che pende dalle sue labbra, e vorrebbe eliminarlo, ma non sa come fare. Quindi il primo tentativo che fanno gli avversari di Gesù a Gerusalemme è quello di eliminarlo moralmente, di distruggerlo mediaticamente, diremmo oggi. Quindi screditandolo davanti alla gente, davanti alla folla, o augurandosi che in ciò che dice, in ciò che fa, faccia un passo falso e si metta contro l'autorità. È tutto il Vangelo che aspettiamo che Gesù arrivi a Gerusalemme. Per la verità, il Vangelo di Luca ci presenta due viaggi di Gesù a Gerusalemme. Il primo, quando Gesù è piccolo, quando Gesù è appena dodicenne. E ricordate quel quadretto in cui Giuseppe e Maria, finalmente, dopo tanta ricerca, trovano Gesù a discutere nel Tempio con tutti i dottori del Tempio, con tutti i maestri del Tempio. La famiglia di Gesù però torna e Gesù si adegua alla vita di Nazareth. Però, in un certo senso, potremmo dire che il suo cuore resta a Gerusalemme. C'è una chiave possibile per leggere il Vangelo di Luca e immaginare tutto il Vangelo di Luca come il ritorno di Gesù proprio a Gerusalemme, dove deve andare ad occuparsi delle cose del Padre suo. Gesù ha un dovere da compiere e questo suo dovere è collegato alla città di Gerusalemme, come abbiamo detto molte volte. Ora, Gesù è arrivato a Gerusalemme e la situazione è molto chiara. La folla sta dalla parte di Gesù, circonda sempre Gesù, pende dalla labbra di Gesù, quindi Gesù è inattaccabile di fronte alla folla, è protetto dalla folla che lo circonda. Interessante, in questo momento i farisei sembrano scomparsi, quelli che sono stati finora gli avversari di Gesù, nel Tempio non contano più. Infatti a Gerusalemme i farisei contano poco. I farisei erano importanti nelle città, nei villaggi, nelle sinagoge, ma nel Tempio il potere più importante è rappresentato dal potere sacerdotale, quindi come vedremo dal partito dei Sadducei. Immediatamente prima del confronto con i Sadducei, Gesù viene affrontato sulla questione del tributo a Cesare. E leciti o no che paghiamo a Cesare il tributo è la famosa risposta di Gesù. Quindi cercano di screditare Gesù anche dal punto di vista politico, cercano di incastrarlo, di fargli un trappolone. Se Gesù avesse risposto apertamente che non bisognava pagare le tasse a Cesare, si sarebbe praticamente condannato a morte. Ed è a questo punto che, diciamo, dalla politica, il dibattito verso Gesù comincia a salire sul livello religioso. Chi erano i Sadducei? Chi sono questi personaggi che si accostano a Gesù per affrontarlo? Allora, prendono il nome da Sadoc. Sadoc è il Soma Sacerdote al tempo di Re Salomone. Sadoc unge Re Salomone e come atto di riconoscenza Re Salomone lo nomina Sommo Sacerdote. Da quel momento, dal momento in cui Re Salomone istituisce il Tempio, che, come ricordate, porta a termine il lavoro iniziato dal Padre Davide e consacra il Tempio di Gerusalemme, da quel momento, istituendo il Tempio, Salomone istituisce anche la figura del Sommo Sacerdote. Ma, in questo momento, il Tempio è organizzato intorno al Sinedrio e il Sinedrio è, diciamo, controllato in maggioranza dal partito dei Sacerdoti, che, appunto, rifacendosi a Sadoc, il primo Sommo Sacerdote, prendono il nome di Sadducei. I Sadducei erano famiglie nobili, sacerdotali, molto ricche, molto potenti, che, essendo vicini all'istituzione del Sommo Sacerdotio ed essendo l'istituzione del Tempio e del Sommo Sacerdotio sotto la protezione dei Romani di fatto, erano collaborazionisti dei Romani e avevano sotto controllo la città di Gerusalemme. Lo stesso spazio del Tempio era uno spazio che godeva di uno status speciale per i Romani. Normalmente i Romani non entravano, non portavano idoli all'interno dello spazio del Tempio. Il Tempio poteva battere una sua moneta, avere un suo piccolo mercato interno ed avere anche una sua guardia propria per custodire, diciamo, la sicurezza del luogo sacro. I Sadducei non credono nelle stesse cose in cui credevano altri giudei, soprattutto quelli della corrente dei Farisei. Tra Farisei e Sadducei c'erano differenze importanti. Era possibile nell'antico Israele questa differenza di convinzioni religiose, di dottrina, diremmo oggi. Perché nell'antico Israele il catechismo, come noi lo conosciamo, non era poi così importante. Sostanzialmente esistevano due scuole di pensiero. Quella dei Farisei, che sosteneva che esisteva un'altra vita e che quest'altra vita consisteva nella risurrezione dei morti. E invece, dall'altra parte, avevamo i Sadducei, che non credevano nell'aldilà, non credevano in un'altra vita e soprattutto non credevano nella risurrezione. Possiamo dire che il motivo è che i Sadducei prendevano per vera, per certa, soltanto la rivelazione fatta a Mosè. Cioè l'unica autorità per i Sadducei, per sapere che cosa dovevano credere, che cosa dovevano praticare, era la Torah. Cioè i cinque libri attribuiti a Mosè, quelli che noi chiamiamo Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. I Farisei, invece, attribuivano altrettanta autorità agli altri libri della Bibbia, come noi la conosciamo. Ancora non si era formato il canone della Bibbia, come noi lo abbracciamo e lo accettiamo adesso. Quindi i Farisei accettavano i profeti, che erano per loro una parte importante della rivelazione fatta da Dio ad Israele, e accettavano anche i Salmi, gli scritti sapienziali, e quindi avevano una Bibbia più estesa, più larga dei Sadducei. Inoltre, per i Farisei era molto importante la tradizione orale dei Rabbini, che trasmetteva la chiave di interpretazione della rivelazione di Dio a Mosè. Diciamo che i Farisei avevano una dottrina più elaborata, più popolare, mentre i Sadducei avevano una dottrina legata soprattutto al Tempio, al culto del Tempio, e alla Torah vera e propria. Non credevano nelle anime, non credevano negli angeli, non credevano negli spiriti. Praticamente Dio dava il premio o la punizione in questa vita, a seconda di come uno si comportava. Ma chiave della felicità per i Sadducei è compiere la volontà di Dio, praticando la legge della Torah. Allora, quindi i Sadducei non credono alla resurrezione, e pensano di mettere in ridicolo Gesù, perché sanno che Gesù su questo punto abbraccia la credenza dei Farisei. La loro sfida avviene più su un piano intellettuale, diciamo è un pochino più onesta, perché cerca di affrontare alla radice il problema della vita dopo la morte. Maestro, Mosè ha scritto per noi. Prima di presentare il loro caso particolare, mettono in chiaro, insieme con Gesù, che condividono con Gesù la stessa autorità, cioè Mosè è l'autorità di riferimento. Quindi si tratta, il nodo della questione, l'interpretazione della legge di Mosè. Dall'interpretazione della legge si può comprendere se accettare o no l'idea di una vita oltre la morte. I Sadducei mettono in gioco la legge del levirato. Si chiama così perché levir in latino significa cognato, quindi diremmo oggi la legge del cognato. Qual è questa legge del cognato? La legge del cognato è che se una donna ha sposato un uomo e l'uomo muore prima che abbia potuto avere dei figli, è dovere del cognato sposare la moglie del fratello, cioè la cognata, per dare al fratello una discendenza. Il primo figlio che il cognato avrebbe avuto dalla cognata sarebbe stato legalmente discendente del primo marito, cioè del fratello. Allora, dicono i Sadducei, noi abbiamo un caso estremo. Sette fratelli sposano la stessa donna, di fatto quindi sono lecitamente marito e moglie, ma ciascuno di loro muore prima di poter avere una discendenza. dal primo fino al settimo, uno dopo l'altro. Misteri della sorte, nella vita capita di tutto, quindi perché anche una cosa del genere può capitare. Quindi, se questo può capitare, allora, nella resurrezione dei morti, di chi sarà moglie questa donna? A chi dei sette apparterrà? Nel senso che a chi dei sette avrà il dovere, nell'altra vita, di dare dei figli? La logica dei Sadducei suppone una cosa, che la resurrezione dei morti sia il ritorno a una vita precedente, cioè che si tratti di una continuazione della vita così com'è, con tutti i suoi problemi, soprattutto con il problema di avere dei figli, con il problema del matrimonio, del sesso, di tutto ciò che fa la vita normale, materiale dell'uomo. I Sadducei attaccavano duramente una convinzione dei farisei, che era proprio quella di una resurrezione, sì, ma di una resurrezione che essi immaginavano e pensavano come la vita ordinaria di ogni giorno. Cioè, Dio comincerà, dopo il giudizio, una nuova era nella quale si continuerà a vivere esattamente come si vive finora in questo mondo, soltanto che, appunto, non si morirà più, ci sarà la resurrezione. Allora, Gesù, nella sua risposta, invece, attacca duramente l'argomento, proprio alla sua radice, proprio nei presupposti. Vi sbagliate? Quelli che sono stimati degni di ottenere quel mondo, cioè il mondo della vita, della resurrezione, coloro che sono degni di questo non prendono né moglie né marito. Quindi, non ci si sposa più. Nel mondo che verrà non ci si sposa più. Infatti, non possono più morire. Il problema del matrimonio è strettamente collegato, soprattutto nella civiltà antica, al problema della discendenza. La discendenza, il matrimonio, la sessualità, sono del resto il più grande rimedio contro la morte. Avere una discendenza era, ed è tuttora, l'unico modo conosciuto per proseguire la vita. La vita esiste e continua, il pianeta si popola, la storia va avanti, perché gli uomini, le donne, continuano a far figli. Se smettessero, la vita cesserebbe. Dice Gesù, nel mondo che verrà non ce ne sarà più bisogno. Siccome non si muore più, il matrimonio, non ha più alcun senso e specifica ancora dicendo infatti sono uguali agli angeli. L'espressione è isangheloi, saranno isoangeli, come angeli. E sono figli di Dio. Quindi, il punto è che la qualità di vita dei risorti non è paragonabile a niente riconosciuto. La vita dei futuri risorti sarà tutta sbilanciata in una condizione che noi non conosciamo, di cui noi ancora non possiamo parlare, di cui non abbiamo la più pallida idea. Possiamo dire che sarà una vita più vicina a quella di Dio che a quella degli uomini e delle donne del tempo presente. I sangheloi come angeli. Gli angeli non generano e non sono generati. Gli angeli sono creati direttamente da Dio. La loro vita viene direttamente da Dio, emana direttamente da Dio. Così, la vita dei risorti sarà una vita che avrà la sua origine direttamente in Dio. Quindi, questo significa, saranno figli di Dio. Non dipendono più da una catena di generazioni, perché Dio li genererà di nuovo attraverso la resurrezione in maniera completa e definitiva. sarà lui a dare loro una nuova vita che assomiglierà alla sua, più che alla vita diciamo animale di questa terra, sarà una vita angelica, cioè una vita divina. Attenzione, Gesù non è che argomenta con l'immortalità dell'anima, Gesù non è un filosofo greco. La definizione che Gesù dà della vita futura è collegata alla rivelazione di Dio. I farisei credevano che la vita dopo la morte sarebbe stata una continuazione tale e quale della vita come la conosciamo adesso. Gesù dice di no, la vita del mondo che verrà sarà completamente diversa, sarà una vita spirituale, angelica, divina. Che cosa questo significa non lo sappiamo, ma sicuramente sarà una vita che non ha più la dipendenza biologica, chimica, fisica del mondo come lo conoscete adesso, perché quel mondo sarà completamente diverso. A questo punto Gesù attacca direttamente i Sadducei e lo fa scendendo proprio nel loro campo, entrando proprio direttamente ad affrontare la questione come loro l'avevano posta. Avete detto che Mosè è la massima autorità? Bene, allora vediamo che cosa dice Mosè Esodo al capitolo 3 la rivelazione di Dio nel famoso roveto ardente, il momento in cui Dio rivela a Mosè la sua natura. Ricordate, io sono colui che sono, io sono il Dio di Abramo di Isacco di Giacobbe. Notate Abramo Isacco e Giacobbe tutti e tre hanno avuto problemi a generare i figli ma in questa loro concatenazione portano da Abramo in poi Abramo Isacco Giacobbe Giacobbe sapete Israele perché Israele è il secondo nome di Giacobbe quindi da Abramo fino a Israele la benedizione di Dio la benedizione dell'alleanza di Dio cioè la benedizione della promessa di Dio passa a tutto il popolo di Israele. Che cos'è la benedizione di Dio? Che cos'è l'alleanza? È la comunicazione che Dio fa del proprio bene della propria vita. La benedizione è passaggio di vita. La vita di Dio viene comunicata ad Abramo e da Abramo ha tutta la sua discendenza. quindi c'è una relazione speciale tra Abramo e la discendenza di Abramo. Questa relazione consiste nella benedizione che è il dono di vita di Dio. Ma dice Gesù Dio non è il Dio dei morti ma dei viventi quindi Abram Isacco Giacobbe vivono per lui tutti vivono per Dio cioè il legame che c'è tra Dio e l'uomo in questo caso tra Dio e Abramo il legame dell'alleanza è un legame vitale è un legame che la morte non può scindere quindi Abramo Isacco Giacobbe vivono per Dio quindi esiste la vita dopo la morte esiste la risurrezione ma la risurrezione questo è molto importante non è semplicemente un riportare alla vita un cadavere perché il cadavere diventi un corpo vivente biologicamente strutturato come lo conosciamo ora ma il ritorno alla vita vuol dire ricevere da Dio la pienezza della vita che è l'inizio quindi di un mondo nuovo che ancora noi non conosciamo personalmente qui al di là del commento esegetico questa per me è una delle pagine più belle del Vangelo una di quelle più consolanti e infatti mi fa piacere un grande piacere pensare che tutte le persone che ho perduto tutti i miei affetti più cari in questo momento mi viene in mente il mio papà però insomma ciascuno di noi ha delle persone molto care che sono nella nostra memoria ecco non sono soltanto nella nostra memoria le persone care sono nella memoria di Dio sono in Dio vivono per Lui per noi sono morte ma per Lui vivono noi non le possiamo contattare non le possiamo più riconoscere non le possiamo più incontrare come prima ma per Lui ci sono e sono ben presenti come erano presenti a noi quando noi le avevamo davanti questa idea che tutti vivono per Dio cioè che la vita eterna dipende da una relazione speciale con Dio è una definizione ancora più forte della garanzia della vita dopo la morte delle teorie aristoteliche o platoniche sull'anima e sul corpo è vero io filosoficamente potrei definirmi anche un aristotelico cioè posso fare un discorso abbastanza motivato sul perché credo che l'anima sia la forma del corpo però in realtà questa è una metafisica astratta che forse è riservata alla comprensione di alcuni di quelli che studiano filosofia e tutto sommato diciamo l'idea di un'anime mortale che sopravvive al corpo è stata per tanto tempo un'idea molto discussa ma qui il punto è un altro e in questi giorni si è discusso molto di Halloween poi ho tirato in ballo nel gruppo il dia de muertos e qualcuno di voi commentando quel video su questa bellissima festa messicana ha citato il film di Walt Disney Coco Coco di Walt Disney è un bellissimo film che commuove perché è un modo di ripensare il nostro rapporto con i difunti però io avrei qualcosa da ridire su quel film perché alla fine nella sua radice non è un film davvero cristiano ma del resto forse non potrebbe esserlo visto che si rivolge a un pubblico globale un pubblico di gente che non necessariamente è cristiana un film pensato per essere visto in Cina per essere visto nei paesi musulmani per essere visto ovunque tutta la storia del film è il tentativo da parte dell'eroe di questo bambino che si ritrova nel mondo dei morti di evitare che i morti muoiano una seconda volta e questo è interessante nel film dico come muore una persona una seconda volta e muore nella logica umana quando viene dimenticata perché vedete la vita dopo la morte viene pensata in modo non cristiano come una relazione con i viventi cioè con noi con gli esseri umani ancora vivi quindi finché ce ne ricordo essi vivono anche nell'aldilà infatti uno dei problemi della città dei morti nell'aldilà nel film Coco è proprio la seconda morte quando nessuno più si ricorda di te quando muoiono tutti quelli che ti hanno conosciuto tu rischi di morire una seconda volta e questo significa dissolversi nel nulla cadere nell'ublio nel buio più totale nell'essere dimenticati la cosa più terribile che possa capitare a un essere vivente ecco la risposta di Gesù che è la risposta cristiana è che l'identità personale di ciascuno di noi è indelebile nella memoria di Dio tutti vivono per Dio perché tutti sono importanti per lui per lui ogni molecola dell'universo è importante ma come sono importanti gli esseri umani come sono importanti per lui questi esseri pensanti che popolano la superficie di questa crosta terrestre beh questo è un fatto unico e spiegabile ciascun essere umano ha una relazione speciale con Dio ed è una relazione di benedizione di amore di figliolanza quindi tutti vivono per Dio perché Dio non dimentica nessuno tutti sono eterni perché Dio è eterno